I genitori va sempre bene, si chiama Giada, la mamma di Giada può venire qui dalla regia in piazza del comune che Giada è qui con noi, è stata ritrovata dalla nostra polizia municipale che ringraziamo dunque Giada è qui con noi, tranquilla la mamma e il papà e proseguiamo con la festa ma cosa hai combinato tu? Hai messo i coriandoli? Che bel momento, bellissimo momento, dov'è? Allora venite avanti con il carro, ciao Alberto Amici dei Sambar Tumè Io saluto anche Jessica che non so dov'è Ci ha trovato, non so se da casa si è visto ma hanno provato a colpirmi con il cannone coriandolo ma mi hanno mancato ma mi hanno mancato non è bello dire mi hanno mancato, perché quando dici così dopo te ne sparano altri quattro perché allora diventa una sfida, capito? diventa una sfida io adesso mi vado a rifugiare in regia, vado da Stefano e là siamo al coperto Leo Davide allora proseguiamo, venite avanti, venite avanti tutto in diretta signori eh non è registrato chi fosse a casa ma poi